oggi è il turno di maddalena maddalena è un dipinto che è nato insieme alla cornice Novak mi piaceva l'idea di fare un ritratto di una donna che aveva un nome che evocasse un personaggio comunque mitologico fondamentalmente perché la maddalena è un personaggio ancora poco conosciuto della vita di Gesù l'ha fatta passare per una persona con delle qualità che non corrispondono fondamentalmente e in effetti io nel film che ho intenzione di fare il personaggio di maddalena è un personaggio tra i più importanti inizialmente che poi ritroveremo in tutti quanti il film perché è quell'elemento femminile che completa l'essere umano era la donna di Gesù maddalena non vedo cosa ci sia di così terribile Maometto aveva due mogli una bambina e una di 50 anni tanti 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 Socrate aveva una moglie e poi chissà quanti altri maestri hanno avuto mogli è la cosa più naturale del mondo però la nostra religione cattolica specialmente quella che spacca i meroni più di tutte sulla sessualità non ci vuole lasciare in pace metti perizoma sui crocefissi e non ti fa mai avere uno sguardo sereno pulito sulla sessualità ma la deve sempre sporcare e deve dirti che se tu sei sensibile a quella emozione lì sei una persona cattiva animale da abiesimare di cui devi vergognarti e pentirti con tutto il cuore dei tuoi peccati perché peccando offende il creatore che ha fatto il sesso forse per errore forse per errore bene chiederglielo hai fatto il sesso tra gli esseri umani quella voglia quella sensualità quella sete dell'eros perché ti sei sbagliato o era la cosa migliore che potessi fare perché io sento che è la seconda la risposta giusta e mi chiedo per quanto tempo dobbiamo andare avanti a dire che fa tutto schifo quello che in realtà è solo buono e invece per quanto tempo dobbiamo continuare che è buono quello che fa schifo che è bello quello che è brutto che è sano quello che è tossico per quanto tempo ancora dobbiamo andare avanti con questa berzelletta e Maddalena in qualche modo ti viene a ricordare un po' questa cosa qui perché nella cornice dove c'è questo binomio di marmi antichissimi e cd contemporanei si lega il passato con il futuro nella solita vecchia tematica quando è che riconosci abbracci il valore di cui hai bisogno nella vita perché non basta sapere qual è molte persone sanno qual è il valore supremo della propria vita ma non lo accettano perché sei libero di accettarlo o non accettarlo l'amore non ama costruzioni ama fare dei trucchi per farti venire sete affinché poi tu quando hai sete ti bevi da solo ma non ti costringe mai il suo puttanesco muove le cose in modo che fai tutto tu carino piace c'è un bel stile stile divino quel divino divertente che non è palloso che non lo eviti come succede con le religioni ragioni tutte direi chi più chi meno tutte a differenza della spontaneità che la vita ci permette di avere sono tutte ingessate sono tutte inusorie hanno tutte la pretesa di volere fissare il creatore quella cosa infinita l'abbiamo fissata in delle regole sotto controllo adesso noi applichiamo queste regole rigorosamente sacrificandoci eliminando della della zona piacevole sacrificandola mettendogli in una zona spregevole ma se è per Dio facciamo oltre per tutte vogliamo capire Dio una volta per tutte basta basta corsi di aggiornamento no non puoi giocare Dio una volta per tutte non puoi mangiare Dio una volta per tutte non puoi guardare Dio una volta per tutte non puoi volergli bene una volta per tutte non puoi odiarlo una volta per tutte ma lo fai una volta per volta una volta per volta perché tutte le volte è nuovo tutte le volte è diverso tutte le volte tu devi cambiare il tuo sguardo di seguire questa cosa che non ha fine non ha fermo non ha stop è un divenire continuo che tu vuoi verbalizzare chiudere in un concetto vuoi imprigionarlo tu al massimo occupati dei tuoi fagioli che non si attacchino dentro di te continua ad andarci dentro perché sennò si attaccano e quando si attaccano veniva su quel odore di bruciato di cibo sgradevole che proprio tu non vuoi mangiare vorresti evitare se possibile ecco la Maria Maddalena è il dipinto che per 1000 euro viene riscattato insieme alla cornice bene questa è Maria Maddalena questo è il riscatto a quella parola io passo a un altro sterminio ciao e alla prossima messagerie selfie Amore Messa te diamo